Un plus importante di Mural Revolution è l'efficienza energetica. Quando si parla di efficienza energetica si parla di etichettatura di prodotti. La normativa vigente impone a tutti gli apparecchi energiori, cioè che consumano energia, di essere etichettati all'atto della vendita. Questo permette all'acquirente di porre a confronto i diversi apparecchi e in modo semplice e immediato definire cosa sono le prestazioni e i consumi di ciò che sta acquistando. Mural Revolution si pone nella parte alta dell'etichettatura, essendo in classe A++. Questa classe elevata dà un vantaggio ulteriore, in quanto entra a far parte del calcolo della classe energetica dell'immobile in cui è installata. Un immobile che ha una classe energetica elevato è un immobile che ha un valore elevato. Mural Revolution, installata in un edificio esistente, ne incrementa le classi di una o due. Quindi Mural Revolution, oltre a dare i vantaggi economici e ambi sulla bolletta del riscaldamento, aumenta il valore dell'immobile.